Anche nella diocesi di Vallo della Lucania si darà ufficialmente il via all'anno della famiglia a Moris Letizia, fortemente voluto da Papa Francesco, con una solenne concelebrazione presso la cappella del seminario di Vallo della Lucania, presieduta dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero. L'appuntamento è per venerdì 19 marzo alle ore 18 e nell'occasione ogni forania della diocesi sarà rappresentata da una famiglia che riceverà un'icona della Sacra Famiglia, una lampada itinerante da far girare nelle parrocchie appena cesseranno le disposizioni restrittive dovute alla pandemia e il testo dell'esortazione apostolica a Moris Letizia per l'approfondimento e la meditazione durante l'anno. Come precisato da Don Roberto Guida e dall'Equipe della Pastorale Familiare della Diocesi di Vallo della Lucania, a causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria in corso, la celebrazione avverrà nel rispetto delle norme in vigore. Pertanto chi desidera seguire l'evento da casa lo può fare attraverso la pagina Facebook Pastorale Familiare e Vita Vallo della Lucania